Beccati in pieno, eccoli qua. Il lupo non c'è, il lupo non c'è. Esattamente 3 minuti e 7 secondi di video girato da un'automobilista sul passo Tre Croci verso Auronzo sotto Valbona. Alla vista del branco di 4 lupi, probabilmente femmine, l'uomo inizia ad inseguire gli animali, riprendendo tutto con il cellulare. Un video che prova che ci sono i lupi in valle. Eccole qua. Sapevo che c'erano, che mi hanno mangiato le mucche st'estate in Malga. Questi sono lupi, questo è il classico lupo italiano. Adesso li scanno, voglio vedere. Due lupi riescono a scavalcare i muri di neve al lato della strada, gli altri continuano invece a fuggire. Non cedono di mezza virgola, stanno correndo come bestie. Guarda che roba, guarda che sta andando, sono 50 all'ora, sono due chilometri che corre come una bestia. Alla fine anche un terzo lupo riesce a guadagnare la fuga, mentre un quarto ormai stremato per la lunga corsa a 50 chilometri orari viene superato dall'auto. Immagini e parole che sono rimbalzate in rete, suscitando indignazione e dure reazioni. Le associazioni animaliste chiedono che venga individuato l'autore del video, mentre il Partito Democratico del Veneto parla di folle in seguimento che deve essere punito. È un episodio, continuano i democratici, vergognoso e gravissimo, anche perché con le temperature così rigide, la rottura del branco e le tante energie spese per scappare, questi animali andranno quasi sicuramente incontro alla morte. Il PD ha presentato in regione un'interrogazione chiedendo alla Giunta se intende attivarsi per punire il responsabile. Il PD ha presentato in regione un'interrogazione chiedendo alla Giunta se intende attivarsi per la lunga corsa a 50 km.